e ciao a tutti io sono creovidol benvenuto in questo nuovo video in questo dodicesimo giorno del calendario dell'avvento oggi facciamo non lo so thank bar ha questo qualcosa aspetta proviamo just se sempre se giocabile perché non è una scusa è veramente una merda sto coso aspetta ma non c'è tasto turbo tasto turbo potrebbe salvarci da situa ma incomandabile tutto il tasto turbo no no incomandabile dobbiamo trasformare sti piccoli scemi in uova e prenderle non noi e prenderle uova quello l'ho preso al volo poi su e bastardo mi ha preso lui no ma è acceleratissimo sta andando come non dovrebbe vedete è super accelerato guardate qua wave 2 perché ok ho preso l'uovo un altro uovo ma io li aspetto qua bastardo e poi non vola come dovrebbe secondo me guardalo e vola manca uno manca bastardissimo no l'ultimo l'ultimo uovo porco cane maiale si ma son pratica cosa succede che già sbagato ok uno l'ho preso io sto rimbalza è acceleratissimo sembro sotto lsd guardano 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 e non mi prende i comandi un altro uovo e uovi e uovi e cristina guarda non non capisco più un cazzo è impossibile non so cos'è successo no ma è provo ancora una volta ma è veramente incomandabile vai 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 sali so ma dai guardalo questo l'ho preso questo l'ho preso questo l'ho preso bom andiamo a prendere le uovo e no ma veramente è veramente porco eccolo lì ma va fanculo oh no ma troppo troppo accelerato quello capita anche quei fanculo oggi ho fatto con i femmini colo capitano anche se cose qua maledette che certi giochi vanno baffanculo accelerati perché l'hardware che c'è all'interno non è preciso è identico a quello del ness quindi i giochi si comportano male ok sto giro fatto meno pettare di prima qua non c'è più il pavimento e poi si muove da solo tipo drifta i direzionali che driftano come fast and furious dai che sto qua lo becco sto uovo guarda cadi giù nella merda bastardo ma dai finisco nel becco niente o non riesco oh ma non è possibile e con questa brutta notizia direi che no non possono devo rifarlo adesso io è una questione di principio come è possibile che perdo quel livello perché sto gioco è maledetto porco guarda che l'altro me lo voleva mettere l'uovo lo metto io l'uovo dai scendi a prendere l'uovo prima che si trasforma in omino guarda come rimbalza guarda lì che c'è l'uccellaccio bastardo perché ci metto troppo tempo ma è incomandabile ok ce l'ho fatta eh l'ultima volta che ci riprovo eh perché abbiamo visto i primi tre livelli allora ma vai a cagare eh non riesco eh ma dai glielo ficcare porco e niente basta basta no 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 come ho fatto col culo comunque io è da un po' che provo ma è ingovernabile è ingovernabile si accelera si rallenta guardate lì è proprio sotto lsd eh c'ho lo struzzo sotto lsd lo stronzo guarda lì poi rimbalzo un bottissimo a me non sembrava fosse così e poi muoio perché li annusolano no io direi che basta basta ho perso già troppo tempo con questo titolo che su questa testa di sonic femiclon cinesissimo è veramente troppo bagato un saluto da crew e al prossimo video speriamo che mi capitano giochi un po' un po' un po' un po' belli un po' ben fatti che girano come dovrebbero vediamo la demo ma nella demo va normale guardate che la demo vola normale dovrebbe essere così e invece a me va sotto lsd eh la velocità è questa ma va fa bagno ancora un saluto e al prossimo video ciao ciao